Dopo 120 anni di presenza sul territorio, le suore di Maria Bambina hanno lasciato il comune di Lamont. In questi giorni, le ultime sei religiose hanno dovuto abbandonare il paese, richiamate dalla congregazione centrale. La gestione della comunità era diventata insostenibile, commenta il parroco di Lamont, Don Giorgio Aresi. Le suore si occupavano di varie mansioni, sostegno nel doposcuola, aiuto in parrocchia, assistenza in casa di riposo e in ospedale. E come succede anche da altre parti, hanno dovuto fare una scelta per poter sopravvivere, per poter avere meno problemi possibili dal punto di vista della gestione economica. È davvero un dramma in questo momento. Le suore, dicevano, sono sempre meno in Italia, non hanno ricambio vocazionale e quindi l'età si alza, hanno dovuto fare i conti con la realtà. Una suora faceva catechismo, portavano la comunione agli ammalati, ecco, un servizio per il bene della comunità e della parrocchia. Grande tristezza da parte della comunità lamonese che ha visto partire un pezzo di storia del proprio comune, un'amarezza alla quale i cittadini non possono sottrarsi fermandosi e guardando la casa delle suore ormai chiusa e disabitata. Nessuno se lo aspettava che chiudessero così nel giro di poco tempo, anche perché da quando mi hanno dato la notizia in due mesi hanno chiuso tutto. È qualcosa che manca. Adesso passando la gente vede quello stabile chiuso da due giorni, perché l'ultima è partita domenica, si vede quello stabile chiuso, si vedono le tapparelle chiuse e si pensa che non c'è più nessuno. Quindi la comunità ha reagito con stupore, anche con realismo, perché ha capito le condizioni, però il dispiacere c'è.